Sì, 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 esatto. Già si è capito. L'antifono. Che cazzo è? Sto flashando, non so voi. Bello. Cosa? Porca puttana! Ma sembra un grattacetto. Ma è bellissima! Sì, 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 sì. Quanto mi hazzati stavolando. È Demon's Souls. È Demon's Souls. È Demon's Souls, ragazzi. Ho riconosciuto il boss, il Cavaliere. È Demon's Souls, ragazzi. Minchia, infarto collettivo, direi. Demon's Souls 2? Sì, ma dai, porca puttana. È successo! Questo gioco è matematica non culo.